Buongiorno a tutti da Nicola Lazzerina e Alice Giarolo, benvenuti a Radio Doppio Malto, la radio ad alta fermentazione. Comincia oggi questa nostra rubrica intitolata alla finestra sul cortile. L'obiettivo che ci prefissiamo è quello di trattare temi di politica internazionale, eventualmente poco rilevanti nella scaletta dell'informazione dei principali media, in un modo che vuole essere a metà strada tra lo stile radio giornalistico propriamente detto e l'approfondimento specifico. Una sola nota di colore. Il titolo del programma, come certamente gli appassionati di cinema avranno constatato, riprende quello del celeberimo film di Alfred Hitchcock, laddove per noi il cortile è appunto il mondo che ci proponiamo di volta in volta di analizzare alla stregua di attenti osservatori. Alice, vuoi spiegare agli ascoltatori il perché di questa scelta? Certo, il tema di questa nostra prima puntata riguarda le elezioni presidenziali francesi che sono imminenti. Abbiamo deciso di parlarne in quanto ci sembra un avvenimento di importanza nodale per quelli che saranno i futuri equilibri politici europei. E inoltre riteniamo, non so tu Nicola, se la pensi così, che non abbia ancora ricevuto la rilevanza che merita presso il grande pubblico. Vogliamo ricordare quelle che sono le tappe di questo avvenimento politico così importante per noi? Certo. Dunque, le elezioni si terranno innanzitutto domenica 22 aprile. Qualora questa tornata elettorale non dovesse essere sufficiente per eleggere un presidente, si dovrà ricorrere ad una seconda consultazione domenica 6 maggio. La campagna elettorale è cominciata il 20 marzo, pur se è stata temporaneamente sospesa da più parti sulla scia della sparatoria alla scuola ebraica di Tolosa. Ma cosa ci puoi dire riguardo i candidati? Allora, in Lizza ci sono sei candidati. In prima fila i contendenti Nicola Sarkozy per il centrodestra, che come sappiamo è il presidente uscente, e per il centrosinistra abbiamo invece il socialista François Hollande, il quale ha vinto il ballottaggio delle primarie del partito lo scorso 16 ottobre, sconfiggendo la rivale Martin Huberi. Nicola, tu che hai seguito la campagna elettorale di Sarkozy da vicino, vuoi descriverci un po' come è stata condotta? Allora, sì. Sarkozy ha ufficialmente presentato la propria intenzione di correre nuovamente per Deliseo il 15 febbraio e ha dichiarato esplicitamente al riguardo. Bisogna che i francesi comprendano che se la Francia è forte saranno protetti. Insomma, considerata la grave crisi economica nella quale versa anche la Francia stessa, non è dunque un caso, direi, se lo slogan della sua campagna elettorale è la Francia forte. Quindi si intende un paese forte contrapposto ad uno debole, visto che da più parti non a caso gli si rinfaccia di essere addirittura il cameriere del cancelliere tedesco, di Angela Merkel. Certo, quindi paradossalmente una Francia debole nei confronti di una Germania forte, no? E diciamo che questo rapporto tra forte e debole è quello che Sarkozy vuole instaurare con lo sfidante, no? Infatti vorrei che ci parlassi del rapporto con Hollande, come si configura all'interno di questa campagna elettorale per Sarkozy. Certo, il riferimento allo sfidante è azzeccato ed è molto chiaro. Un tratto caratteristico infatti di Sarkozy, ma più in generale di tutto l'UMP, che è il partito conservatore del centrodestra, nel corso di queste settimane è stato proprio quello di puntare in continuazione il dito contro Hollande, accusato nello specifico di non possedere nessuna competenza necessaria per tragettare la nazione fuori dalla tempesta economica e sociale. Quindi l'elettorato di riferimento di Sarkozy oggi è costituito dal ceto medio, che è più che mai bisognoso di rassicurazioni, però non dobbiamo dimenticare che il quadro all'interno del quale oggi si muove il presidente uscente è molto diverso rispetto a quello di cinque anni fa. Infatti ricordiamo che la campagna elettorale di cinque anni fa di Sarkozy ha colpito molto i mass media francesi che non erano abituati a una campagna elettorale così particolare. Infatti vorrei chiederti quale differenze costate tra questo Sarkozy e quello della compagna elettorale di cinque anni fa. Allora, Sarkozy oggi una cosa è certa, non gli si può più affibbiare il soprannome di iperpresidente che gli veniva per l'appunto affibbiato quando svettava insieme ai sondaggi. L'aspetto in assoluto più limitante per lui a riguardo sembra essere il non essere riuscito a portare a termine tutti i progetti che aveva promesso e ha tentato a riguardo di difendersi sostenendo come non sia possibile realizzare tutto questo in un arco così limitato di tempo. Però la recessione in Francia c'è e morde, per cui il paese si interroga comprensibilmente sulle proprie sorti che sono, per riallacciarmi al discorso di prima, molto diverse rispetto a quelle della Germania. Sì, certo, capisco anche perché il livello di occupazione in Francia è notevolmente cresciuto nell'ultimo anno, proprio per questo io ti chiederei di spiegarci a grandi linee quelle che sono le strategie proposte da Sarkozy proprio per uscire da questa crisi francese che poi è una crisi a livello europeo. Dunque, in materia occupazionale Sarkozy mira ad alcune proposte ben precise, vuole ridurre la pressione fiscale per le aziende che assumeranno regolarmente persone con più di 55 anni di età che siano rimaste senza lavoro, innanzitutto. Poi vuole introdurre dei sussidi di disoccupazione che siano decrescenti nel tempo, cioè che comincino a calare nel momento in cui il tasso di occupazione comincia a risalire. Poi vuole rafforzare il legame tra università ed imprese, introdurre una maggiore flessibilità attraverso una negoziazione nei settori chiave dell'economia. Per quanto riguarda il potere d'acquisto, esso non dovrà superare il 75% dei rimborsi della retribuzione minima per un'ora di prestazione lavorativa. Poi i lavoratori a basso reddito che beneficiano di un'integrazione da parte del governo dovranno garantire non meno di 7 ore di lavoro a settimana come controparte. Nel 2016 si dovranno ricercare poi il pieno equilibrio per quanto riguarda i conti pubblici e si promuove anche una sorta di FBI contro le frodi fiscali e la stesura di uno schedario per chi si macchia di reati contro il fisco stesso. Poi ci sono una stretta sui valori fondamentali della destra per quanto riguarda l'immigrazione, la laicità, l'assistenzialismo parassitario eccetera. Per quanto riguarda invece il candidato socialista e le sue campagne elettorali, cosa ci puoi dire? Il candidato dell'opposizione, come già detto, è François Hollande, il quale, cosa che gli viene recriminata poi da Sarkozy, in passato non ha mai ricoperto incarichi ministeriali. E' stato invece deputato e segretario del partito socialista tra il 97 e il 2008. Lo sfidante, diciamo, che i suoi messaggi e i suoi valori sono chiaramente quelli della sinistra socialista di sempre, tanto che ha esordito proclamando di voler essere il presidente della Francia che soffre e che spera. A riguardo le sue proposte cardinali, quali sono? Anche Hollande, per quanto riguarda l'occupazione, punta a creare nuovi posti di lavoro. 150.000 nuovi occupati, in particolare nei settori dell'innovazione ambientale e sociale e guarda con particolare attenzione i quartieri popolari. A questi si aggiungono poi 500.000 contratti di generazione. Contratti di generazione. Puoi spiegarci brevemente in cosa consistono? Perché è una definizione interessante. Certo, i contratti di generazione sono un'invenzione della campagna elettorale di Hollande, per così dire, e in altri termini consistono nel fatto che un'impresa, che assumerà un giovane, potrà godere di una riduzione delle imposte se per tre anni manterrà accanto a lui un altro lavoratore già stabilizzato da tempo, cioè che lavora da quella impresa da molto tempo. Si pronuncia poi un rincaro dei costi dei licenziamenti collettivi per le aziende che versano di dividenti ai propri azionisti. Inoltre, le quote della cassa integrazione per le imprese che abusano dei lavoratori precari verrebbero anch'esse aumentate. Un aspetto interessante è che la retribuzione minima per un'ora di lavoro sarà indicizzata non più in base all'inflazione, ma in base alla crescita. Per quanto riguarda invece la politica interna, il deficit pubblico dovrà essere riportato ad un valore pari al 3% sino al 2013, per poi tornare pienamente a regime e in equilibrio nel 2017. Per chi resta disoccupato, Oland invece intende finanziare appositi percorsi di formazione professionale e potenziare gli strumenti di ricerca dell'impiego. Questo dunque sul fronte occupazionale del lavoro. Altri punti salienti del programma quali sono? Allora, anche Oland diciamo sente la pressione del mondo finanziario e quindi promuove la riforma del sistema bancario francese. Dall'altra parte guarda l'immigrazione con un'apertura diversa rispetto ai candidati di destra, volendo la concessione del diritto di voto agli stranieri intanto nelle elezioni comunali. Inoltre vuole rendere illegale il cumulo di più incarichi per i parlamentari e aumentare del 25% del valore i sussidi scolastici. Quindi anche qui un'importanza nodale gioca l'educazione, cosa che viene un po' a mancare negli altri programmi degli altri candidati. Il suo obiettivo ovviamente è quello di acquisire consensi in particolare presso i ceti popolari e quelli più poveri. Ovviamente quelli che hanno anche sentito maggiormente il peso della crisi. Misure sicuramente importanti su questo ordine sono le agevolazioni, le detrazioni fiscali per recuperare almeno sino a 29 miliardi di euro di entrate. Diciamo che Oland con il Partito Socialista desidera veramente lasciarsi definitivamente alle spalle l'incubo del 21 aprile di dieci anni fa, quando addirittura al primo turno delle elezioni presidenziali il candidato del Partito Socialista arriva addirittura al terzo posto. Quindi direi che questi sono i programmi dei due candidati maggiori e ti chiederei di guardare alle sorprese che non mancano all'interno di questa campagna elettorale. Esatto, perché questa non si configura necessariamente come una partita a due, come una sfida a due. Tra essi si è in realtà inserito anche un terzo incomodo. Stiamo ovviamente parlando di Marine Le Pen, che come è noto è candidata per il Front Nazionale ed è anche capo dello stesso movimento, nonché figlia del celebrismo Jean-Marie Le Pen. In particolare sembra avere avuto successo Marine Le Pen nel tentativo di liberare definitivamente il suo movimento dai vetti e dai pregiudizi che da sempre lo accompagnano, come forse inevitabile direi nel caso di una formazione politica che da sempre si fa portavoce di tematiche indubbiamente molto forti. Ne cito a titolo esemplificativo alcune. L'uscita dell'euro da parte della Francia, una giustizia più severa nei confronti anche dei reati minori e una sostanziale limitazione dei diritti dei musulmani nel paese. In assoluto direi che fondamentale sarà il consenso che il Front Nazionale eventualmente riuscirà ad accaparrarsi presso i ceti popolari, i ceti operai, ma in assoluto direi che reputo alquanto improbabile che Marine Le Pen riesca addirittura a balzare al secondo posto in occasione del primo turno, bissando quindi l'impresa che come giustamente molti ricorderanno riuscì nel 2002 proprio a suo padre. A riguardo quindi ti chiederei se il quadro nei confronti dell'Europa di Marine Le Pen è così ben definito. I due candidati principali indizza, come guardano questa istanza? Certo, io ti posso rispondere per quanto riguarda Olanda in particolare, il quale vuole una rinegoziazione del trattato europeo sulle finanze pubbliche, varato con l'accordo del 9 dicembre del 2011. Poi mira il varo di un patto di responsabilità, di governance e di crescita a livello continentale per uscire dalla crisi di cui abbiamo accennato. A suo avviso la Banca Centrale Europea poi dovrebbe essere riorientata in funzione del lavoro e della crescita stessa. L'euro poi dovrebbe trovarsi, a suo avviso, in un rapporto maggiormente equilibrato sia con il dollaro sia con lo yuan. Necessario sarebbe poi a suo avviso l'avvento degli euro bond, che sono delle apposite obbligazioni per mutualizzare il debito europeo. Lo stesso poi vale sia per il federalismo fiscale sia per le istituzioni di nuovi strumenti finanziari. In particolare mira la creazione di un baggio europeo, in vigore dal 2014 al 2020, al servizio del futuro delle grandi opere riguardanti proprio l'Europa. Quindi in Oland troviamo un'apertura all'Europa, una preoccupazione costante a quello che è il mondo europeo. Per quanto riguarda Sarkozy invece, come affronta la questione europea? Giustamente. Sarkozy pretende, innanzitutto, una profonda revisione degli accordi di Schengen in vista di una sanzione, di una sospensione o addirittura di un'esclusione dal detto trattato di uno Stato che non dovesse eventualmente rispettarne i parametri. Non solo, ma si riserva addirittura la facoltà di uscire dal trattato di Schengen qualora nell'arco di un anno non dovesse constatare particolari sviluppi legati all'efficacia degli accordi di Schengen. Lo spazio quindi che interessa il trattato in questione dovrà diventare un vero e proprio spazio di governance politica, del governo della cosa pubblica europea. Questo per quanto riguarda la libera circolazione delle persone nell'Unione attualmente. C'è poi un altro aspetto particolarmente importante per quanto riguarda il fronte economico a livello continentale. Il Presidente uscente, infatti, ricalcando l'esempio americano, punta a sostenere le imprese che decideranno di fabbricare e di produrre in Europa. Le piccole e medie imprese dovrebbero poi contare maggiormente nell'Unione attraverso l'apposita destinazione alle loro attività produttive di determinate quote di mercato. Poi si parla dell'istituzione di un'assemblea parlamentare dell'intera Eurozona, aspetto direi interessante, e della creazione di una banca europea apposita di investimento che dovrà rafforzare il proprio intervento in direzione delle stesse piccole e medie imprese. Quindi un quadro globalmente diverso ma con un punto di convergenza. Entrambi mirano, in ambiti differenti, ma ad istituire finalmente un governo pubblico dell'Europa, cioè un governo della cosa pubblica, un governo finalmente politico. Certo, per quanto riguarda invece gli altri candidati, che dati ci puoi fornire? Sì, oltre ai due principali candidati indizza e a Marine Le Pen, che già per certi aspetti potrebbe essere considerata un outsider, ci sono anche degli outsider in senso stretto, che possiamo definire così. Il più in vista tra tutti direi che è certamente François Beirou, che è il leader del movimento democratico, una formazione politica di centro che al momento attuale è anche riuscita ad ottenere dei consensi non disprezzabili in assoluto. Ve ne sono poi altri minori. C'è Jean-Luc Mélenchon, che è un ex membro del Parlamento europeo, militante del fronte di sinistra, nonché capo del detto movimento, il principale esponente in Francia dei principi della socialdemocrazia dell'eurocomunismo. Poi abbiamo Eva Jolie, che è dei Verdi, un magistrato e pure il ex membro del Parlamento europeo. Troviamo poi Philippe Poutou, del nuovo partito anticapitalista, per quanto questo sul fronte ovviamente della sinistra estrema, affiancato da Nathalie Artaud, di Lotto Operaia, e poi delle figure per molti aspetti peculiari. Troviamo Nicolas Dupont-Egnan, di Alzati Repubblica, un movimento repubblicano di stampo e huashettico, quindi è possibile per certi aspetti ravvisare un'affinità con Marine Le Pen su questo fronte. E poi Jacques Cheminade, di Solidarietà e Progresso, anche questo movimento molto peculiare che si ispira innanzitutto alla lotta contro la selvaggia finanziarizzazione dell'economia in Francia. Quindi possiamo tracciare una vicinanza con il movimento degli indignati spagnoli, con questo movimento che guarda con grande paura il mondo della finanza. Mentre dall'altra parte risconterei anche qui una frammentazione a sinistra piuttosto che a destra, che poi è anche caratteristica del nostro paese. Esattamente. Bene, io direi che per questa sera è tutto, ci risentiamo tra un mese. Nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.malto.it e allo stesso tempo cercateci anche su Facebook. Io cedo la parola ad Alicia. Certo, vorremmo concludere con una suggestione ascoltando le parole di uno scrittore che ha salutato la vita qualche settimana fa, che è Antonio Tabucchi, che ha la caratteristica di essere un italiano che ha vissuto soprattutto in Francia e in Portogallo e quindi anche lui ha aperto la sua finestra su un cortile più ampio del nostro microcosmo italiano. E ho pensato alla vita che è surrettizia e che raramente mostra in superficie le sue ragioni e invece il suo vero percorso avviene in profondità come un fiume carsico che si sta facendo sempre più tardi. Da giovane ho letto Pascal. A quel tempo mi piaceva, specie per il suo jansenismo, era tutto così bianco e nero, così distinguibile. Capirai, allora la vita era in bianco e nero. In montagna bisognava fare scelte precise, o di qua o di là, o bianco o nero. Poi la vita si incarica di portare il chiaroscuro, da Tristano muore. Arrivederci alla prossima puntata della finestra sul cortile. Grazie a tutti.